Signorina Katkart, insegno storia in un collegio maschile. Sono qui per chiederle aiuto. È una cacciatrice di fantasmi, oltre che scrittrice. Non si va a caccia di ciò che non esiste. Ma nel nostro caso esiste. Qualcuno di voi ha visto quel fantasma con i suoi occhi? Io l'ho visto. Nel corridoio di sopra. Vogliamo andare a vedere? Rilevatore di campo magnetico. La carta è per le impronte. I fantasmi le lasciano? No, le lasciano quelli che fingono di esserlo. Non credo che esista altro posto sulla Terra dove si comprende meglio la solitudine. Chi c'è? Ci deve essere una spiegazione. Perché non vuoi aprire gli occhi? Hai bisogno di vedere fantasmi, più di chiunque altro. E dai vivi che devi guardarti, non dai morti. Chiudete le porte. Eri terrorizzata e hai chiuso gli occhi. È opera vostra! Nella speranza che la paura svanisse. Ma non è così. C'è qualcuno? C'è qualcuno? No! C'è qualcuno? Grazie a tutti.